Ad intervenire sulle dimissioni della consigliera comunale Monica Pizza, quale presidente della Commissione Commercio del Comune di Agropoli, è il sindaco Adamo Coppola. Ci dispiace, afferma il primo cittadino, che la consigliera Pizza abbia deciso di rassegnare le dimissioni dalla presidenza della Commissione Commercio. Il lavoro di consigliere, lo sappiamo, è un incarico duro che presuppone pazienza, ma con il tempo l'impegno profuso viene premiato. Gli studi compiuti, gli incontri e le opzioni proposte su temi di interesse pubblico diventano soluzioni concrete che approdano in giunta o in consiglio comunale per l'approvazione. Siamo certi in ogni caso che la consigliera abbia tanto da offrire, al fine di contribuire a migliorare i servizi della nostra città. La nostra amministrazione, conclude Coppola, si attende ancora tanto da lei.